quindicesima puntata poesia in amistà e continua l'uso percorso che stavolta abbiamo come sempre ospiti vari abbiamo uno scrittore da nuoro pluripremiato pietro pala abbiamo qualche servizio dall'esterno abbiamo cantadores con un chitarrista cionu cionu che gli ande ad ananzi a beda bedo e non vi dico il nome così lo dite la puntata poi abbiamo curiosità abbiamo pure lo stiamo ponendo quasi in giugna chita una un'altra disputa con antonello serra io faccio lo politico ed io lo religioso e il video è comune maishì